Filippo risultato giusto quello di questa sera ma diciamo che dispiace dispiace perché abbiamo avuto occasioni importanti che potevamo sfruttare meglio bisogna anche dar merito comunque a una squadra importante come il Cesena che ha saputo sfruttare con le due palline attive e niente dispiace solo per questo la prestazione è stata buona e probabilmente il mantova meritava di più avete rimpianti ma diciamo che quando in 90 minuti prendi forse zero di riporta e prendi volso due palline attive rimpianto c'è perché potevamo fare qualcosa in più però insomma abbiamo fatto un percorso veramente importante soddisfatti comunque della stagione ma devo dire che sono veramente orgoglioso di questa squadra di questi ragazzi sono orgoglioso di essere il capitano di questa città di questa società e insomma quindi li ringrazio uno per uno e non vediamo l'ora all'inizio prossimo anno con i nostri tifosi